Totalmente e sorprendentemente rivoluzionata la classifica generale del Giro della Svizzera dopo la quarta tappa a Rosa Locarno di 199 km vinta dall'italiano Dino Caverzasi. Franco Bitossi che si era giudicato due delle tre tappe precedenti e che ieri aveva indossato anche la maglia rosa, è finita l'undicesimo posto davanti a Gimondi, dodicesimo, e lo svizzero Wiffian, quindicesimo. Questi tre corridori occupano rispettivamente i primi posti della classifica e tutto lasciava a prevedere che il duello finale si sarebbe dovuto svolgere fra Bitossi e Gimondi, viceversa in testa alla classifica questa sera c'è Roberto Poggiali con tre secondi sullo svizzero Feninger e quattordici sull'italiano Mori. Bitossi e Gimondi accusano rispettivamente un distacco da Poggiali di quattro primi e venticinque secondi e di quattro primi e trentasette secondi, con sola il fatto che i nostri corridori continuano ad essere i protagonisti del Giro, il quale nella sua tappa odierna aveva la maggiore asperità, il passo di Luc Manier a quota 1916. Proprio su Luc Manier si è scatenata la battaglia più violenta senza che i cosiddetti grandi se ne preoccupassero, così un gruppetto di 15 corridori è riuscito a conseguire un primo vantaggio che è andato aumentando fino a raggiungere ben 10 minuti. Questo Giro della Svizzera sembra destinato ad essere a pannaggio degli italiani, ma dopo quanto è avvenuto oggi non sono da escludersi altre sorprese. Domani quinta tappa, ai rolo Meiringen di 197 chilometri.